9 luglio 2009, oggi ci troviamo a Palma de Mallorca, questo è un meraviglioso scorcio della cattedrale che andremo a visitare, torniamo a Palma de Mallorca dopo due anni, nel 2007 andammo prima dell'estima crociera mediterraneo con la Navigator of the Seas della Royal Caribbean andammo con la Voyager of the Seas ma naturalmente ci vediamo a tutte e tutte a carrioro del canno su ematube.it